buongiorno mister come sta la squadra che tipo di livello è l'innesto dei nuovi la situazione anche degli infortunati di come partita sì allora partiamo da dagli infortunati quindi abbiamo mogos e giron che ancora sono convalescenti poi c'è il discorso che non c'entra nulla con gli infortunati ma un discorso per lasciarlo tranquillo perché c'è il mercato aperto sapete la situazione di di carbo e quindi abbiamo preferito insomma finisce il calcio mercato e poi le cose vediamo come si sistemano insomma no questo è un po il concetto per quanto riguarda la squadra sta molto bene nel senso che abbiamo fatto una settimana molto molto bella al di là di quello che ho sentito ho letto qualcosa di malessere queste cose qui c'è un sostantivo che non è proprio fuori luogo nel senso che la squadra si allena non bene di più c'è un'armonia spettacolare c'è un c'è un entusiasmo nei ragazzi c'è una voglia di di fare le cose in maniera stupenda e lo dimostrano giorno dopo giorno e quindi questo ci tenevo a precisare anche perché magari poi dopo un pareggio può succedere che magari qualcuno di fuori possa pensare chissà chi invece la squadra sta molto sottolineo molto bene abbiamo rivisto la partita abbiamo metabolizzato quello che funzionato quello che non funzionato e siamo pronti a disputare questa gara contro una squadra che comunque non sarà facile perché comunque sta facendo bene si è rinforzata come tutte e per finire la domanda che che mi ha fatto dico che quelli che sono arrivati alcuni stanno meglio altri un po meno bene del ricco piano piano è quello che è un po più in diretto degli altri però la condizione migliora e quindi dobbiamo solo avere pazienza in tutto questo dobbiamo continuare a macinare punti possibilmente vincere però ci sono anche gli avversari e noi stiamo facendo qualcosa di sottolineo straordinario perché non solo numeri ma anche come prestazioni poi ognuno può pensare dire quello che vuole sappiamo dove dobbiamo migliorare perché le partite finiscono il 95esimo e anche oltre e noi lì dobbiamo cercare di chiuderle prima in questo dobbiamo migliorare nelle scelte nei gesti tecnici ma non nel resto nel resto la squadra gioca calcio crea e gioca un ottimo calcio sottolineo ottimo sottolineo ottimo a 55 punti tranne una squadra che sappiamo che sta facendo qualcosa che non è normale non è comune non in questo campionato ma nei campionati della serie c tre gironi e quindi noi dobbiamo solo fare una cosa non mollare di un centimetro come stiamo facendo e non molliamo quello non nessuno deve avere timore di quello perché questa squadra qua ha dimostrato più volte anche nella stessa partita di superare degli ostacoli importanti e lo ha fatto e quindi dobbiamo solo continuare a lavorare quello che stiamo facendo punto in questa ripeto in questo clima straordinario che c'è all'interno del gruppo e andare avanti e basta pensare alla partita che viene dopo pensando che rispettiamo tutti ma siamo crotone e quindi dobbiamo far valere la nostra supremazia punto mi sono divulgato un po magari vai mister buongiorno sono claudio berlingeri gazzetta del sud si mister arriva il potenza che all'andata impose il primo pareggio al al crotone si che squadra si aspetta e cosa dovrà fare in più il crotone per portarla a casa si e mi ricordo quella partita che tra l'altro anche qui ho visto che c'era scritto che uno è stato espulso alla fine non era non era papini ma era ma era panico era panico no ecco ha detto questo e poi comunque l'intervista l'abbiamo fatta anche domenica scorsa e domenica noi ci siamo io mi sono presentato i tacchini no chiudo parentesi forse dove dirlo prima domenica io carraro abbiamo parlato dopo la partita detto anche questo no perché poi magari qualcuno dice che non parliamo ci nascondiamo noi siamo la luce del sole tutti sempre schiena diritta occhi bene aperti perché siamo 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 alla luce del sole detto questo all'andata e ci fu come dire è lo specchio di quello che poi continuiamo un po a a dover migliorare cioè la partita che passiamo in vantaggio colpimo il pallo mi ricordo un'occasione di mino un'altra di mattia vitale e quindi non chiudiamo la gara e poi subiamo un gol alla fine sul calcio di punizione che può succedere perché quando le partite non riesce a chiuderle può succedere in qualsiasi momento contro qualsiasi squadra perché questa è la legge del calcio quindi e quindi mi ricordo quella partita ora loro hanno cambiato allenatore hanno cambiato modo di scendere in campo anche come dislocazione però conosciamo la squadra adesso hanno squalificato loro centro avanti capitano catturano però hanno fatto un ottimo acquisto sostituito anche lì e quindi ci sta che ci sia anche il nuovo acquisto e quindi e quindi dobbiamo tenere gli occhi aperti ma io sono come dire penso a quello che che devono fare i miei calciatori che è la cosa più importante che che ho visto bene in settimana anche l'aspetto non solo mentale ma quello tecnico è stato una settimana particolare che ci porta ad una partita particolare particolare in che senso le spiego subito perché ci sono momenti in cui come secondo la mia lettura quello di domani e la squadra deve lanciare dei messaggi sia a se stessa sia ai tifosi ma sia al campionato mi spiego ancora di più meglio di più meglio non si poteva dire vabbè meglio senza più vabbè ma ci sta e il pareggio con monterosi avvenuto dopo lei l'ha detto in conferenza stampa io posso dire tranquillamente dopo il più bel primo tempo che si abbia mai visto in questa in questa no fuori caso sottolineato che ricordo però però io le dico la qualità la qualità espressa credo non credo ne abbiamo fatti molti tra i migliori non ne abbiamo fatti molti abbiamo fatti molti molte ma ma sottolineo molto ma non posso mettere tra i migliori scusa se l'interrompo se l'interrompo il discorso è sempre molto legato al risultato ora voi dite non basta il risultato assolutamente ma il risultato è la cosa che determina anche i giudizi allora tu hai vinto boh hai vinto 3 0 puoi aver tirato tre volte in porta aver avuto il baricentro non davanti all'area davanti all'area piccola puoi aver giochi alto se aggressivo fai la partita ai sette occasioni gol vinci 1 a 0 e fatto una partita sufficiente ma noi che analizziamo le distanze le aggressioni i passaggi utili passaggi non utili e tante altre cose che sono nei parametri di 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 una partita dopo e di che la partita la fai e come la fai e crei come la fai noi dobbiamo lì leggere bene fare le scelte giuste migliorare sotto l'aspetto tecnico i passaggi in certe situazioni in certe altre essere più cinici basta e cioè dobbiamo far quello ma tutto questo lo sappiamo ci stiamo lavorando già da un po continuiamo a lavorarci e io non sono fiducioso di più perché vedo l'entusiasmo con cui lavorano questi ragazzi e questi noi arriveremo anche far quello la partita di domani è una partita come tutte le altre cioè che noi dobbiamo vincere possibilmente con più di un gol di scarto possibilmente perché bisogna usare possibilmente perché questa è però dobbiamo vincere punto ma ma non c'è stata mezza partita che noi non abbiamo interpretato per 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 vincerla cioè compresa il secondo tempo che abbiamo disputato di avitermo contro monterosi cioè se esce un giocatore ne entra un altro con le caratteristiche simili per cercare di offendere per fare secondo voi il terzo poi dopo quello che succede dopo dopo che sono avvenuti i cambi è un discorso che va oltre nel senso che poi è giusto voi il ragionamento lo fate alla fine io lo faccio all'inizio ma all'inizio io quando levo d'ursi e metto carbo o levo che adesso gomez e metto cernigoi cioè noi che cambio dislocazione uomini in campo oppure tolgo vitale metto del ricco metto un giocatore qualitativo uno di gamba e un centro avanti alto che più freddo ma è normale questo no cioè capito quindi ma torno al punto di prima e chiedo scusa se lo interrotta noi li dobbiamo migliorare allora migliorando quello tutta la gestione che dopo magari manca mezz'ora manca 20 minuti manca un quarto d'ora manca un tempo si è più rilassati si gioca meglio si sbaglia di meno si ha più fiducia si spreca meno energie e tantissime altre cose e quindi anche i vostri giudizi sono diversi ma la prestazione se fai un solo gol è sempre la stessa nel senso che manca a quel pezzo importante che la 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 rifinisce la rifinisce è chiaro che poi dopo essendo 1 a 0 può succedere al novantesimo al novantacinquesimo tre volte ti va bene una volta ti va male ma lo sappiamo noi quello perché ci sono anche gli avversari e poi magari non puoi più andarli a prenderla perché lo gioco a palle lunghe e rimpalli sono difficilmente quantificabili quindi noi sappiamo che dobbiamo fare quel passo lì per come dire essere al top cioè noi siamo gesti non solo nei punti e nel gioco ma anche nel nel chiuderle e nel rifinire questo passaggio che è fondamentale perché voi ti posta sprecare meno energie avere più fiducia in te stesso a gestire la rosa in un certo modo a spremere meno qualcuno e dar più spazio ad altri perché è normale non sei sempre lì capito chiedo scusa se l'ho interrotta no ho quasi dimenticato la domanda sì no no ma era ma intanto racchiude sicuramente racchiude no in realtà no mister perché stavo andando su un altro punto però sono contento che è bastato dargli un piccolo complimento dicendo che è stato uno primo tempo in cui mi sono divertito tanto sì che no ecco le abbiamo fatti altri noi abbiamo fatti tanti altri non ho detto che è stato l'unico sì sì no 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 certo certo assolutamente anzi però il purtroppo lo diceva lei ritorno su una sua frase il punteggio poi alla fine no è quello che conta e io ho visto un po qualche altra squadra che ha quasi festeggiato come se avessi fatto il camminato come se non ci fossero ancora 15 partite da giocare e un po di di tristezza perché era una partita che si poteva portare a casa con i tre punti se ne tornati con un punto solo è un distanco che è passato ad otto e qui che le chiedevo l'importanza della partita di domani perché anche sull'entusiasmo e sul dare soprattutto un messaggio al campionato perché dire al campionato guardate che mancano ancora dopo domani dopo la partita di domani sono momenti importanti penso no ma questo certo no no ma va da sé e l'ho detto nella prima risposta che ho fatto suo collega che 15 partite sono 45 punti a disposizione ed è un'eternità perché veramente quando si dice il giorno di ritorno è più complesso è più difficile è la sacrosanta verità perché non solo le squadre si migliorate attraverso il mercato non solo il traguardo si avvicina e quindi le pressioni aumentano ma è l'aspetto climatico i primi caldi cioè ci sono tante sfaccettature che ti portano a dire che il giorno di ritorno è più complesso e difficile ora se c'erano sei punti era meglio se ce ne fosse state quattro meglio ancora questo è un parametro oggettivo ma assolutissimamente il campionato è super aperto noi non vogliamo andare in centimetro nella maniera più assoluta ma dobbiamo concentrarsi esclusivamente solo su di noi e fare ripeto quello che stiamo facendo per questi ragazzi qua bisogna farlo in toto un grandissimo applauso perché la società che crea un qualcosa del genere una struttura del genere cambiando l'ottanta per cento dei cacciatori e crea uno staff nuovo e noi creiamo un'alchimia noi dello staff tra giocatori tra noi e tra giocatori stessi eccetera è una cosa sensazionale straordinaria quindi dobbiamo solo coltivarla e andare avanti serenamente punto senza farci troppi viaggi che non servono e badare a noi stessi punto cercare di migliorare dove possiamo che è lì che ci manca quel tassello ma ci arriviamo perché ripeto c'è un ambiente straordinario in questo gruppo di ragazzi con qualità quella nessuno l'ha mai negata dobbiamo fare un ulteriore passo per arrivare al top e poi dopo quello che sarà ragazzi noi state tranquilli che non mogliamo di un centimetro questo è quello che mi sento di dire e che sono certo che i ragazzi faranno salve mister Giuseppe Livadotti della provincia che ha fatto ha messo in evidenza un po' tutto quello che è la questione del crudone e il percorso che ha fatto non è un percorso a casa perché 17 vittorie 4 pareggi dove sono le sconfitte che sono arrivate come sono arrivati e questo identifica la classifica identifica la forza di una squadra come la classifica dopo 23 partite identifica anche il potenziale di una squadra che sta sotto e ha detto noi dobbiamo andare avanti e migliorarci in cose che purtroppo ci stanno penalizzando questo migliorarsi significa tener di conto tutto il contesto del parco giocatore perché la domanda è mia sì perché Calapagli non è in campo noi non vediamo gli allenamenti e non posso sapere che cosa succede durante gli allenamenti perché Calapagli anche Gironno quando non è infortunato è part time Carbone il fatto del mercato lei l'ho appena detto e allora tutto questo eliminare queste negatività che stanno penalizzando perché una parentesi la voglio aprire si parla di una squadra che ha i vertici che a livello europeo però tutto quello che sta facendo questa squadra non sarebbe stato sufficiente ad essere a livello europeo se il crudone al netto della partita che ha perso al Ceraulo non avesse perso per strada 11 punti con squadre di bassa classica questo è il discorso e allora tutto questo cambiamento del crudone deve arrivare tenendo conto di tutto quello che è l'organico compreso gli ultimi arrivati in ordine di tempo nel calciomercato guardi adesso è stata un po' come dire frastagliata la sua domanda che adesso devo metterla un po' in ordine io credo che la rosa che ho a disposizione un allenatore deve valutare quelle che sono le condizioni migliori in quel momento di uno anziché di un altro ma tutti sottolineo tutti sono totalmente coinvolti quindi magari in un momento più in forma uno gioca lui in un altro momento più in forma un altro e poi magari ecco questo è la risposta a quello che mi diceva Calapai mi diceva Aua mi diceva ecco questo era il senso per il resto ragazzi noi dobbiamo pensare a quello che stiamo facendo noi se poi dopo c'è un'altra squadra che continua su questo livello qui e diventa difficile perché sta facendo qualcosa che nei campionati non solo recenti ma a tre girone è mai successo quindi bisogna anche da radito e dire complimenti se continui così ma siccome sappiamo come funziona il calcio siccome sappiamo come funziona lo sport che nessuno ti regala niente le partite devi sudartele tutte i campionati sono lunghi molto lunghi e difficili e ci sono ancora molte partite noi dobbiamo solo continuare a fare quello che stiamo facendo possibilmente senza possibilmente migliorarsela dove possiamo e questo noi lo sappiamo ma ripeto tutto il resto sono discorsi che lasciano il tempo che trovano perché noi dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a noi stessi capito salve mestre romano buongiorno gen 24 mega press ripeto non voglio dire non è una critica quello che si fa ma è chiarire lei alcune cose le ha già dette questo crotone è una squadra leader tutti ne siamo convinti anche lei di questo insomma nella prova anche il punteggio finale cioè i 55 punti però voglio sottolineare quello che stava per dire il collega il fatto che il crotone abbia avuto questa sua qualità non l'abbia espressa pienamente proprio con un gruppo di squadre che sono nel gruppo di coda ecco perché questa difficoltà ma perché il calcio perché il calcio ragazzi il calcio è fatto di queste cose il calcio è fatto di ci sono 3500 esempi a livelli top che partite facili non ce ne sono ci sono difficoltà oggettive contro chiunque che i valori in campo i valori teorici si annullano quando scende in campo e quindi possiamo discutere questo è lo sport è lo sport perché perché è fatto di tantissime situazioni e quindi laddove magari meritavi qualcosa in più hai fatto qualcosa in meno magari una partita meritavi un pari nei fatti due in più ma le partite sono tutte insidiose sono tutte difficili sono tutte ostiche e lo saranno ancora di più da qui alla fine e poi noi dobbiamo ricordarci che cioè siamo il cortone due anni fa andavamo a giocare a San Siro all'Olimpico andavamo a Napoli poi siamo andati in Serie B in Serie B abbiamo vinto quattro partite ragazzi quattro uno, due, tre, quattro provate a guardare l'escursus delle squadre che sono retrocesse con società alle spalle fortissime vedi Benevento con Vigorito vedi la Cremonese con Arvedi vedi il Padova vedi il Bari questo è un campionato tosto difficile ragazzi questo è un campionato tosto difficile quindi bisogna che anche voi non solo tutti i tifosi che ci seguono e che noi abbiamo non rispetto di più perché con acqua, pioggia arrivano sono sempre lì presenti fuori casa, in casa e noi per loro tanto di cappello ma bisogna che ci tuffiamo ci siamo già tuffati noi ma tutti assieme ci tuffiamo nella realtà perché questa è una categoria difficile che bisogna toglierci il più fretta possibile e quando è un organico importante sotto tutti i punti di vista bisogna alimentarlo bisogna cercare di fare gruppo tutti assieme per toglierci da questa situazione perché magari lei non fa il professionista giornalista ma ci tiene magari a intervistare un giocatore magari dopo una partita di serie B credo io o prima è meglio per tutti magari l'altro fa il professionista meglio ancora ma è un bene comune per tutti quindi noi dobbiamo capire chi siamo stati qualche giorno fa qualche mese fa qualche anno fa recente ma dove siamo adesso? cioè dobbiamo capire dove siamo adesso questa categoria qua è una categoria difficilissima cioè difficilissima piena di insidie piena di insidie quindi noi siamo lì a lottare e lotteremo fino alla fine e casomai se non entriamo dalla porta principale non è che ci buttano via dobbiamo andare avanti per quella secondaria ma il risultato deve essere sempre lo stesso sempre quello lì conseguirlo fino alla fine con le unghie e con i denti perché abbiamo la possibilità di farlo molto molto bene non solo sottolineo sotto l'aspetto qualitativo tecnico, tattico ma anche sotto l'aspetto della formazione di un gruppo di uno staff con i giocatori di una società col gruppo cioè ragazzi questa è la realtà io non so l'anno scorso cosa sia successo ma l'anno scorso quando io leggevo quando leggevo la rosa del crotone e non potevo pensare che retrocedesse e poi retrocesse ragazzi cioè voglio dire non potevo pensare non penso che gli allenatori che sono stati qui sono stati tutti allenatori che non capivano niente gli allenatori sono tutti molto sottolineo, molto competenti quindi qualcosa non è funzionato quindi quest'anno che oltre ad avere la qualità dei giocatori abbiamo anche una cosa importante che è il gruppo che funziona molto bene e che non c'è nessun malessere ma che sono tutti molto legati, uniti e che stanno seguendo la lettera quello che dice il sottoscritto che sono responsabile dell'area tecnica bisogna leccarsi i baffi bisogna incoraggiare questi giocatori se avete qualche perplessità qualche cosa ci troviamo, ci vediamo ma non ci sono scheletri dietro non c'è niente siamo la luce del sole avete capito ragazzi siamo la luce del sole questo vorrei dirvelo in maniera tranquilla e serena perché sappiamo anche noi che c'è sempre modo e non bastano i 55 punti non basta aver fatto dopo il Catanzaro i più gol di tutti e subiti i meni di tutti sempre dopo di loro perché loro hanno una classifica ma il campionato non finisce andiamo avanti non finisce ancora lungo e state tranquilli che non molleremo tutto questo ok? buongiorno mister Giovanni Montegua.it oggi lei è stato particolarmente eloquace nel senso è troppo è troppo è troppo è puntualizzare una serie di passaggi è un messaggio verso i tifosi siamo troppo dai verso i tifosi insomma nel senso loro l'ho detto alla fine sui numero uno dobbiamo sì prego no nel senso che voglio dire lei ha voluto puntualizzare una serie di cose non tanto a una giustificazione quanto per rimarcare chiarire alcuni punti che magari potrebbero essere con i sottintesi ma di fatto la squadra non si è mai vista ma lo faccio per rispetto dei miei giocatori e per rispetto di chi mi paga cioè della società cioè ragazzi e per rispetto mio di Franco Lerda cioè capisci ed è il mio staff soprattutto ed è il mio staff perché siamo lì H24 tranne le 6, 7, 5 io che dormo un po' di meno di ore siamo sempre lì concentrati non per pettinare le bambole per lavorare come fanno tutti i tecnici attenzione poi abbiamo una fortuna noi rispetto agli altri che abbiamo un centro fantastico e possiamo lavorare in maniera serena con tutti i comfort del caso e quindi lo facciamo e lo facciamo anche molto bene insomma ecco questo dico quindi andava puntualizzato un po' di cose ma senza nessuna polemica in maniera serenissima grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori